Il sopralluogo oggi di Luciano D'Alfonso nell'Istituto Penitenziario di Pescari segna un punto importante della politica abruzzese. Il messaggio che passa è riprendo dove sono stato interrotto. Inevitabile pensare alla struttura che D'Alfonso già nel 2008 aveva collocato altrove e che oggi è sovraffollata, non sicura. Al centro della questione ci sono quei 40.000 metri quadrati non idoni, dice D'Alfonso, a una cittadella che intende rieducare. A un luogo pienamente conforme alle finalità previste dalla Costituzione. Ma è solo un centro da cui poi si dirama la possibilità negata di una trasformazione totale della città che a suo tempo rappresentò per i cittadini la possibilità di avvertirla come vicina. Ho portato dentro di me il carico di un'emozione e anche di una paura, perché si è lavorato per generare paura. Che le carceri potessero diventare il luogo del mio trattenimento e contenimento. La lotta politica che diventò giudiziaria. Ho impiegato dieci anni per naturalizzare il rapporto tra me e quel luogo. E oggi me ne voglio occupare come amministratore per delocalizzare le carceri, consentire la buona vita lì dentro, soprattutto di chi ci lavora, di chi è operatore e poi di chi è detenuto, pensando anche a progetti di lavori socialmente utili. E oggi a dieci anni dal processo che ha visto D'Alfonso assolto con formula piena, quel progetto insieme ad altri va ripreso, una sorta di passaggio di testimone a se stesso, con la forza di un legame con la città che torna ad essere vicina. Io devo chiedere scusa ai sindaci della provincia di Pescara, ai miei collaboratori, ai miei amici, che sono finiti indagati in una specie di bolla di sapone, dove non c'era ragione per essere indagati, tant'è che sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, e hanno colpito loro per colpire me. Allora mi chiedo per quale ragione si è dovuto bloccare quel treno in corsa che era città vicina, quell'amministrazione energica, risoluta, decisionista, per fare in modo che i dieci grandi problemi di allora rimanessero in vita. Poteva essere anche questo l'interesse. Oggi ripartiamo da quei nodi bloccati che devono essere sciolti e trasformarsi in opportunità.